Ci troviamo nell'aula consigliare del Comune di Grottaglie, dove sta per avere inizio il dibattito organizzato dalle donne democratiche del PD, dal titolo Libere di pensare, libere di essere, in politica, nel lavoro, nel sociale. Siamo con l'euro parlamentare del Partito Democratico Elena Gentile. Onorevole, nonostante i secoli di lotta portati avanti dalle donne e da uomini illuminati, la donna viene ancora discriminata. E si sa, non si può essere liberi fino a quando viene calpestata la nostra dignità. Questa libertà quindi fa fatica a diventare la norma. In questi anni lo sforzo delle donne è stato esemplare, riporre al centro dell'attenzione e del dibattito il tema della libertà individuale, della possibilità di costruire il proprio progetto di vita, non assecondando schemi del passato, ma proponendo appunto percorsi che abbiano la possibilità di mettere a valore l'intelligenza, la passione, la creatività, il saper fare, le competenze delle donne. In una società che oggettivamente è densa di barriere e di ostacoli. Nel 2017 dobbiamo ancora prendere atto che per esempio nel mondo del lavoro vi sono oggettive difficoltà per l'ingresso delle donne, non solo per l'ingresso ma per la permanenza delle donne nello stesso. Da poco il Parlamento italiano ha sancito un passaggio importante abolendo quella pratica vergognosa per esempio delle dimissioni in bianco, ma penso anche alla difficoltà da sempre che le donne incontrano nel conciliare i loro tempi dentro città, comunità che sono oggettivamente poco permeabili alle esigenze delle donne. Insomma c'è ancora molta strada da fare, non solo in Italia, anche in Europa registriamo una rilevante difficoltà nel sancire appunto il principio della libertà e dell'autodeterminazione delle donne. L'impegno che stiamo attuando nelle aule consigliari, nelle aule delle commissioni, del Parlamento, un impegno straordinario. A partire dai temi per esempio della salute, dell'accessibilità e della democrazia delle cure, a finire al tema del lavoro e della sua qualità. E oggi dobbiamo rivolgere il nostro pensiero a quelle tante donne vittime della negazione della libertà. A partire dal tema della violenza, ancora così drammatico, ancora così presente, a finire al tema della sicurezza del lavoro, dello sfruttamento di cui le donne sono parimenti vittime rispetto agli uomini. Questa mattina in un piccolo comune della Puglia ho ricordato Paola Clemente, l'abbracciante agricola che ha perso la vita in situazioni di lavoro assolutamente abberranti. Ho ricordato le cinque donne di Barletta che morirono in seguito al crollo di una palazzina, lavorando in situazioni di assoluta mancanza di sicurezza. E anche senza contratto e quindi senza tutela, gli episodi si rinnovano, si ripresentano e giustificano oggi questa grande manifestazione globale, lo sciopero delle donne. Oggi le donne sono state assenti, assenti sul lavoro, assenti nelle cure, assenti in famiglia, proprio per far pesare anche quanto sia importante il lavoro di cura. E' un surplus di lavoro a cui le donne sono chiamate e che non viene ancora oggi valorizzato. Insomma è importante che soprattutto le giovani generazioni, le ragazze, prendano in mano il testimone di tante battaglie che hanno portato ovviamente a risultati rilevanti. Penso alla battaglia sul divorzio, penso alla battaglia sull'interruzione di gravidanza, penso alla 194, cioè penso a quelle leggi che hanno comunque restituito alle donne il diritto appunto di scegliere liberamente sul proprio corpo e sulla propria vita. Carolina Magazzino, componente della segreteria del PD di Grottaglie. Com'è cambiato il ruolo della donna negli ultimi 50 anni? Il ruolo della donna oggi è il tema di questo incontro dedicato alla festa della donna e indubbiamente analizzeremo tutti quelli che sono stati i processi evolutivi del ruolo della donna negli ultimi 50-60 anni. Metteremo in luce tutte le differenze anche a livello lavorativo e a livello psicologico e a livello d'immagine per la donna fino ad arrivare ai giorni nostri. Sicuramente partiremo dal concetto di donna come dedita alla famiglia e con un ruolo decisamente centrato sull'accudimento dei figli e sulla negazione delle proprie esigenze. Analizzeremo poi l'evoluzione al femminile negli anni 60-70, quindi tutto ciò che è accaduto a livelli di costumi, usi e modi di pensare della donna per arrivare poi alla donna degli anni 80-90. Una donna sicuramente molto più disinibita che ha preso in prestito ruoli maschili dal mondo femminile e anche modalità di relazione e modalità di linguaggio tipici del mondo femminile. Questo sicuramente ha avuto delle conseguenze e ha fatto sì che la donna vivesse adesso un periodo di crisi profonda per quanto riguarda anche la propria identità, ma soprattutto che si trovi di fronte ad un uomo sicuramente disorientato rispetto a queste nuove modalità di interazione al femminile.